Canti e balli a tema natalizio e gioia, quella ci vorrebbe tutto l'anno. A Fornelli, l'ultimo giorno di scuola, prima della pausa natalizia, è stato all'insegna del divertimento, protagonisti bambini della primaria della locale scuola, ma anche tanti genitori e nonni che non vedevano l'ora di assistere alla performance dei loro pargoli. Che spettacolo! Al girotondo della festa ha preso parte anche la preside Ilaria Licci. A vederla in azione si è divertita almeno quanto i suoi alunni. Per la dirigente l'occasione anche di una riflessione rivolta ai genitori. Per me è una gioia, io aspetto con ansia questa settimana dell'anno, mi fanno girare da un comune all'altro, ma io felicissima di stare in mezzo a loro. Condivido momenti di canto, momenti di riflessione e anche di ballo come stasera, ce la faccio ancora. Noi ci auguriamo di trasmettere loro i valori, i buoni sentimenti e i buoni propositi, valori di solidarietà, di pace, di altruismo e soprattutto di tanto tanto amore, così che loro possano cogliere il vero senso del Natale. Il messaggio che ci stiamo dando è che bisogna di tanta collaborazione scuola-famiglia per l'educazione, l'affettività e il rispetto reciproco. La scuola fa tanto, però senza la collaborazione delle famiglie e l'esempio che danno loro a casa non possiamo andare lontano. Io so che ci impegneremo tutti tanti.